Pronto? Pronto, chi parla? Sono Francesco Francesco, Francesco chi? Rutelli Bravo Francesco Francesco vedi, è tornato il tempo delle battaglie contro quello Stato catto, clerico, fascista No, no, ma non sono Francesco, sono il Papa Sempre Io sono il Papa Il Papa, il capo di un'associazione oscurantista che offende le donne del libero pensiero No Io non mi ricordo Fin dai tempi di Turchamata Pronto? Marco Sessantadue Sessantatrè Eravamo lì Panella, stai calmo Ma tutto bene? Panella Panella Te volevo solo fare gli auguri Era una chiamata veloce De amore Mi ricordo Ma che Bonino? Non l'ho detto, Bonino Non l'ho detto Contro lo Stato Quello Stato Catto, clerico E purtroppo sono in galleria Te devo lasciare perché Non sento bene E non lo prende più Comunque vedo che stai meglio Te sei riceso Pure la galleria Ma forse mi è girato a me Da chiamare la panella Raccoglieva le firme Un banchetto Contro la galleria Grazie a tutti Grazie a tutti